Ciao Pro a Fuoriclasse, io sono Irene, insegno latino e italiano nella scuola secondaria di secondo grado e ti do il bentornato o il benvenuto su Fuoriclasse Academy, il canale interamente dedicato al mondo della scuola. Oggi, a grande richiesta, condividerò con te tre degli aspetti più ardui, più complicati che hanno caratterizzato la mia esperienza nel corso dell'anno di formazione e di prova e i tre aspetti positivi che invece ho portato con me e di cui ho fatto tesoro. Quindi mi sono preparata un caffè in modo che questa chiacchierata sia allietata anche da una cosa che amo, anche tu se vuoi naturalmente preparati una bella tisana o una tazzina di caffè, parlo di tisana perché siamo in autunno ma magari mi stai ascoltando in piena estate, quindi nel caso una bella bevanda fredda e iniziamo. Quando ho svolto l'anno di prova, cioè nel lontano 2017-2018 se non vado errata, purtroppo non ricordo mai le date della mia vita, una delle cose che più mi hanno messo in difficoltà, paradossalmente forse, è stato accogliere la mia docente tutor nelle mie classi durante la fase di osservazione, quindi durante quelle ore di peer-to-peer, di didattica tra pari, che come sapete è obbligatorio fare per la conferma in ruolo. Ne abbiamo parlato infatti nel primo video, quello sulla struttura dell'anno di prova e quello in cui appunto abbiamo discusso la normativa e le caratteristiche dell'anno di prova, le incombenze che deve affrontare il docente in formazione. È il primo video della playlist, poi ti lascio il collegamento qui in alto. Quindi, nonostante la mia tutor fosse una persona meravigliosa, veramente meravigliosa, è rimasta un'amica per me, una cara amica, e anzi approfitto per dedicarle questo video e salutarla se mi sta ascoltando, ciao Francesca, una persona di grande esperienza, di grande serietà, che stimavo moltissimo, anzi proprio perché era una persona così seria e che ammiravo, ero molto preoccupata all'idea di essere osservata e valutata mentre facevo lezione, perché devo dire che probabilmente era la prima volta in cui accadeva qualcosa di questo tipo. Mi ero trovata in precedenza a fare lezioni in presenza di docenti per le attività di sostegno, che erano sempre state persone molto disponibili, con cui avevo lavorato molto bene, però non erano docenti della mia stessa disciplina, perciò sì, mi sentivo in qualche modo osservata, valutata, giudicata sul fronte della metodologia, del rapporto con gli studenti, eccetera. Era anche in realtà uno sprone a dare del proprio meglio, da un certo punto di vista, però non mi sentivo a disagio particolarmente perché erano docenti di altre discipline come formazione. Invece l'idea di essere osservata e di poter apparire non all'altezza della situazione mi metteva molto in crisi e questo, appunto, nonostante io insegnassi già da qualche anno, anche se non avevo molta esperienza, devo dire, era il primo anno alle superiori, tra l'altro, perché prima avevo insegnato alle medie e di conseguenza è stata forse una delle sfide più ardue da affrontare nel corso del mio anno di prova. Ricordo che, soprattutto la prima volta in cui Francesca venne a osservarmi in classe, io mi ero preparata alla lezione per due settimane e non è che si trattasse di una lezione di sanscrito, insomma, era una lezione, se ricordo bene, sul... Eh, ecco, sulla terza declinazione, quindi latino, terza declinazione. E, tra l'altro, è una lezione che mi piace molto fare, perché in genere l'ha imposto un po' come una sorta di giallo per la ricerca del nominativo, vabbè, questa è un'altra storia, ve la racconterò in un altro video se vi interessa. Quindi, ero molto emozionata e, nonostante lei abbia fatto tutto il possibile per mettermi a mio vado, si è seduta in fondo, non è mai intervenuta, prendeva appunti. Io mi sentivo gelare il sangue nelle vene, avevo veramente tanta paura di fare brutta figura con lei e di scoprirmi non all'altezza del compito. La seconda sfida più difficile da affrontare è stata la malattia, perché io ho sofferto per molti anni della mia vita di problemi di salute di vario genere, interconnessi e, sfortunatamente, proprio nel corso dell'anno di prova ho avuto un grave problema di salute che mi ha costretto a rimanere a casa per un paio di settimane. Naturalmente, trattandosi dell'anno di prova, per me quel momento è stato durissimo da superare. Da un lato perché non sapevo quando sarei guarita e quindi avevo il terrore di non riuscire a raggiungere quella soglia minima che, anche all'epoca, mi pare che fosse 180 giorni di servizio e 120 di attività didattiche che dovevo superare per avere la conferma in ruolo. Sapevo, naturalmente, che nel caso avrei potuto ripetere l'anno di prova, ma dato che questo è accaduto ad anno di prova già avanzato e quindi avevo già fatto tanto lavoro con la tutor, tante ore di, appunto, compresenza, lavoro sulla piattaforma Indire, eccetera, perdere tutto quel lavoro per la malattia, ecco, mi faceva soffrire, mi sentivo molto arrabbiata, arrabbiata, non riuscivo ad accettare quella condizione, anche perché, ripeto, non era la prima volta che mi capitava che la salute mi mettessi i bastoni tra le ruote nel corso della mia vita e del mio percorso prima di studio e poi lavorativo. Per fortuna, ah, ecco, avevo anche molta paura di essere giudicata male, cioè temevo che si potesse dire che ero una docentina d'impiente, che già all'anno di prova mi prendevo tutti quei giorni di malattia e nessuno l'avrà detto, avevo dei colleghi veramente meravigliosi, sono stata molto fortunata, sono capitata in una scuola di cui ho un ottimo ricordo. Però potete immaginare, insomma, il timore del giudizio dei pari, ecco, quello mi metteva molta agitazione. Per fortuna poi sono riuscita a raggiungere il numero minimo di giorni, credo di averlo anche abbondantemente superato, perché sono rientrata a scuola, sono guarita. Però ricordo quelle due settimane con profonda angoscia ancora, perché avevo fatto tanto per arrivare fino a quel punto e temevo che tutto svanisse all'improvviso. La terza difficoltà che ho incontrato è nata dal rapporto con alcuni colleghi, i quali, anziché incoraggiarmi, sembravo volessero mettermi ansia, erano pochi, devo dire, direi tre nello specifico, però non facevano altro che raccontarmi disavventure capitate a altri colleghi durante l'anno di prova, oppure mettermi ansia sulle questioni burocratiche, sulle scadenze, sulle consegne, benché io fossi sempre piuttosto puntuale, molto attenta, in maniera proprio gratuita. Naturalmente questo era il riflesso del loro modo di essere, del loro modo di pensare, ed è probabile che non ci fosse dolo, non ci fossero cattive intenzioni nei miei confronti. Ciò nonostante, per me era faticoso gestire le mie preoccupazioni e non farmi condizionare dalle loro. Quindi, questi sono i tre aspetti più negativi che ricordo dell'anno di prova. Passando invece agli aspetti positivi, devo dire che alla fine hanno più che bilanciato, più che compensato quelli negativi, e sul lungo periodo si sono rivelati preziosissimi. Il primo che mi viene in mente è proprio il rapporto con la mia tutor, che è tuttora una carissima amica, una persona che per me rimane un punto di riferimento, e con la quale ancora mi confronto sulle questioni scolastiche, nonostante non insegniamo più nella stessa scuola, e quando riusciamo ancora ci prendiamo un caffè insieme, troviamo modo di vederci e di fare una chiacchierata. Il secondo aspetto molto positivo che ricordo dell'anno di prova è il rapporto che si è creato con le colleghe del Dipartimento di Lettere, che erano così affettuose, così disponibili e generose nei miei confronti, che hanno reso tutto il percorso molto più leggero e anche molto più istruttivo, perché ho imparato tanto di più da loro rispetto ai laboratori e ai corsi pomeridiani di formazione che ho dovuto frequentare. Infatti loro mi hanno guidato passo passo nell'affrontare quelle difficoltà burocratiche, amministrative, per le quali non sempre siamo adeguatamente formati, e riguardo alle quali ci facciamo le ossa lavorando, impariamo facendo fondamentalmente. Infine, il terzo aspetto positivo dell'anno di prova è stato lo stimolo a sperimentare, a mettermi in gioco, a trarre ispirazione dai colleghi. Non che prima non lo facessi, però complici da un lato la distanza della scuola in cui insegnavo, dall'altro l'insicurezza legata alla precarietà. Finivo spesso per, non dico adagiarmi perché non è mai stato nel mio carattere, quanto seguire un percorso tradizionale che mi faceva sentire più sicura, a posto con la coscienza e che non avrei sbagliato, che non avrei commesso errori. Invece l'anno di prova mi ha dato una spinta in più per cercare di rinnovare la didattica, un po' sentir parlare delle scuole innovative, un po' essere chiamati a riflettere in maniera costruttiva sulle proprie abitudini di insegnamento. Ecco, è stato un vero sprone per rimettere in prospettiva i miei metodi di insegnamento, le mie strategie didattiche e provare qualcosa di nuovo. Quindi, devo dire che alla fine dei conti, nonostante finito il concorso, io abbia pensato ancora devo essere esaminata, ancora devo essere valutata, ma finirà mai? No, non finisce mai, ve lo dico tra parentesi ora. Ecco, tutto sommato è stato un percorso che mi ha arricchito e che sono contenta di aver fatto e superato, nonostante le difficoltà. E adesso sono curiosa di sapere come sta andando il tuo anno di prova o come è andato se già si è concluso, quali difficoltà hai incontrato o quali aspetti positivi porti ancora con te. E se questo video ti è piaciuto, fammelo sapere con un mi piace, altrimenti metti non mi piace e se hai un minuto da dedicarmi, scrivimi nei commenti come potrai migliorare nei prossimi video per venire incontro alle tue esigenze. Per oggi ti saluto qui, ci vediamo al prossimo caffè condiviso e grazie per avermi ascoltato. A presto! Grazie per avermi ascoltato.